Luciano Moto, via circonvalazione 49 Casa al Grasso, il nome e l'indirizzo da notare oggi sulla vostra agenda per l'appuntamento di Auto Occasioni che vede protagonista la concessionaria per Antonomasia, il regno per tutti gli appassionati dei motori dove poter acquistare, permutare e vendere il vostro usato. Io al mio fianco, come sempre, con piacere Denis che ci ricorda come raggiungere Luciano Moto. Ciao Palma, ben ritrovato tutti, ricordo che è semplicissimo raggiungerci. Siamo a Casa al Grasso, potete uscire dalla tangenziale alla loggia o dall'autostrada a Carmagnola, l'indirizzo preciso è via circonvalazione 49 e siamo sulla statale che collega Torino a Saluzzo. Impossibile non trovarci. Impossibile non trovare Luciano Moto, è la concessionaria più conosciuta nella provincia di Torino, da oltre 30 anni al vostro servizio per offrirvi trasparenza, affidabilità e professionalità. Ma non è tutto qui. Quali sono gli ingredienti del successo di Luciano Moto, Denis? Prima di tutto partirei dalla serietà. Questa è una cosa fondamentale ed è alla base di tutto. Abbiamo poi la scelta con auto, con moto, abbiamo l'opportunità di potervi proporre i nostri veicoli ai migliori prezzi e con le migliori modalità di pagamento. È formidabile l'operazione 50%, una delle migliori proposte che stiamo facendo negli ultimi anni per soddisfare le vostre esigenze. Un esempio può essere partire da questo splendido Vulcan, visto che è da dire siamo diventati concessionari Kawasaki, dopo ci soffermeremo di più sulla questione, ma partiamo di nuovo da questo esempio. Vulcan, 8.690 euro, è a vostra disposizione qui da Luciano Moto a 4.395 euro. È fantastico perché pagate la metà. Potete scegliere voi se aderire all'operazione finanziaria piuttosto che pagare la prima metà in soluzione unica. È a distanza di due anni liberi di restituire la motocicletta senza ulteriori costi e senza obblighi di nessun genere. Liberi di tenerla continuando il finanziamento piuttosto che saldandola in soluzione unica o ancora sostituirla con delle ottime proposte e con un buono del 30% rispetto alla cifra che avete già pagato. Ma gli ingredienti che ha già accennato Denis io aggiungerei del peperoncino perché da Luciano Moto non si vende soltanto. Assolutamente. Noi acquistiamo molto volentieri il vostro usato con pagamento immediato. Richiediamo unicamente la serietà anche da parte vostra, quindi di proporci prodotti sani, non incidentati e con chilometraggio certificato. Abbiamo sicuramente la possibilità di potervi accontentare alle migliori cifre. Abbiamo l'opportunità di permutare il vostro usato auto con moto e moto con auto e lo facciamo anche quando il vostro usato è di valore superiore. Quindi vi restituiamo la differenza e nell'eventualità voi vogliate acquistare un nuovo prodotto con finanziamento paghiamo nell'immediato il vostro usato. Il 2016 segna la svolta qui da Luciano Moto che non si ferma mai, lavora costantemente per accontentare al massimo la propria clientela e al proprio bagaglio unisce Kawasaki. Concessionaria ufficiale Kawasaki, Luciano Moto. Come dicevo prima dal 2016 abbiamo voluto partire in quarta, abbiamo preso la palla al balzo per la miglior concessionaria che oggi poteva rispecchiarci, abbiamo scelto una concessionaria che potesse offrire una vasta gamma di prodotti a partire da prezzi molto molto vantaggiosi parlando di prodotti economici e per neopatentati fino ai top di gamma parlando del nuovo ZX10 che è impossibile non adorarlo a prima vista. I prodotti sono tutti i prodotti validi di alta gamma, sono tutti i prodotti di alta qualità e tutti i prodotti come anticipato prima soggetti ad operazione 50%. Qualsiasi prezzo di listino da noi è esattamente dimezzato. Ritiriamo anche su tutti i prodotti Kawasaki nuovi la vostra auto o la vostra moto e diamo l'opportunità di poterli finanziare ai migliori costi. Sempre belle tante novità qui da Luciano Moto avete sentito concessionaria Kawasaki oltre ai brand che già rappresenta sempre in movimento per voi per regalarvi il massimo dell'efficienza al minor prezzo e questo su tutti i fronti perché Luciano Moto ve lo ricordo è il regno delle due ruote, delle quattro ruote ma anche dei mezzi più particolari e delle micro vetture. Certo ricordo che Luciano Moto è anche post vendita quindi tutte le pratiche amministrative le potete svolgere in sede, tutte le pratiche finanziarie idem e abbiamo anche un reparto abbigliamento accessori fornitissimo e un'officina con meccanici molto qualificati sia Kawasaki sia per tutti i marchi generici e le vostre riparazioni piuttosto che manutenzioni ordinarie o anche preparazioni da pista. Che dire Dennis non ci resta che entrare nel vivo della puntata parlando di auto perché Luciano Moto e anche autovetture e non solo le autovetture classiche perché il parco si è arricchito di vetture introvabili sul mercato dell'usato? Abbiamo tantissimi prodotti forse un po' per passione anzi sicuramente per passione abbiamo roba molto particolare tutta roba certificata e disponibile per voi a qualsiasi prova anche eventualmente con un vostro meccanico di fiducia prendo la palla al balzo per ricordare quello che diceva prima Palma non abbiamo solo auto classiche e particolari abbiamo anche micro vetture sono dei prodotti che negli ultimi anni hanno preso parecchio piede Luciano Moto le tratta dagli anni 90 Luciano Moto è leader nella vendita di questi prodotti con i migliori marchi abbiamo l'opportunità di vendervele anche queste con operazione 50 per cento e ricordo che trattiamo Aixam e Chatenet sia nuove che usate e abbiamo l'opportunità di permutarvele col vostro usato. Amici non cambiate canale microfono a Dennis per la scaletta firmata Luciano Moto state con noi. Prima di passare a presentare le auto ricordo che Luciano Moto non è solo auto e moto ma è anche prodotti particolari uno splendido esempio è questo fantastico Mercedes si parla di un camper veramente extra lusso un prodotto da oltre 80.000 euro nuovo qua da noi a un prezzo formidabile solo 4.000 chilometri da venire a scoprire in sede permutabile col vostro usato auto moto che sia eventualmente anche di valore superiore ricordo che abbiamo diversi altri prodotti sul genere abbiamo anche delle piccole imbarcazioni un fantastico motoscafo molto altro da venire a scoprire in sede passiamo ora alle auto partiamo con le auto partiamo precisamente con i fuoristrada partiamo con un prodotto formidabile si parla di un GMC un mezzo con pochissimi chilometri anno 89 già iscritto ASI formidabile bellissimo da venire a scoprire in sede cambio appena rifatto e gommato nuovo eventualmente permutabile ricordo col vostro usato anche di valore superiore ci spostiamo poi su dei 4x4 è la volta di una splendida 16 un prodotto molto economico soli 60.000 chilometri tagliandato garantito con allestimento full optional altrettanto full optional uno splendido dr5 si parla di un prodotto con impianto gpl di serie 2 4 ruote motrici soli 30.000 chilometri passiamo a prodotti più recenti uno splendido ford kuga allestimento titanium unico proprietario full optional con navigatore sensori barre sul tetto cerchi lega veramente in condizioni strepitose ricordo che abbiamo anche in ritiro una fantastica 500 city look si parla di una 500 x unico proprietario vettura aziendale 40.000 chilometri un prezzo formidabile prima di passare all'interno dello showroom presentiamo le ultime auto qui fuori all'entrata abbiamo uno splendido golf 1.4 tsi da 160 cavalli prodotto unico proprietario in allestimento highline veramente fantastico altrettanto bellissimo una splendida audi a5 4 ruote motrici cambio s-tronic allestimento advanced un'auto con navigatore satellitare cerchi da 19 ovviamente s-line interno ed esterno interni in pelle tutti gli accessori a vostra disposizione unico proprietario appena taglia andate in casa madre si continua con audi un'altra formidabile a5 si parla di un prodotto allestimento s totale interno esterno soli 26.000 chilometri anche questa con cerchia 19 cambio manuale ricordo 26.000 chilometri certificati si parte si parla poi di un turbodiesel si parla di un audi a3 cambio automatico cambio già con palette al volante un 2.000 turbodiesel garantito taglia andato a un prezzo formidabile 11.900 euro e terminiamo sulla piccolina di casa audi su una fantastica audi a1 allestimento s-line anche questa interno ed esterno 50.000 chilometri cambio s-tronic ed è la motorizzazione 1.400 da 185 cavalli si iniziano a intravedere le prime belle giornate e noi abbiamo dei fantastici cabri a vostra disposizione partiamo con un prodottino molto economico ma divertentissimo trazione posteriore si parla di una mazza mx 5 1.600 cilindrata bassissimi costi gestione e soli 60.000 chilometri interessantissimo il prezzo 5.900 euro ci spostiamo su porsche un fantastico box star anche questo con dei costi di gestione molto contenuti ottima la cifra ottima la vettura ricordo che è tutto permutabile con la vostra auto o con la vostra moto eventualmente anche di valore superiore continuiamo su cabrio parliamo di mercedes un fantastico slk con cambio automatico navigatore satellitare ha una cifra molto interessante e sempre molto interessante questo sl 350 in allestimento sport con cerchi a 18 e tagliando appena eseguito continuiamo la carrellata su delle utilitarie parliamo di smart si parla di un prodotto in edizione limitata la edition one prodotta unicamente nel 2015 con cambio automatico e tutti gli accessori disponibili continuiamo con alfa romeo una vettura guidata da neopatentati dove ora seguirà una bella carrellata di vetture del genere quasi parla di 8.900 euro per 30.000 chilometri di autovettura 78 cavalli allestimento progression una splendida citron una ds3 aziendale soli 3.000 chilometri versione cabrio versione veramente difficile da reperire sul mercato dell'usato prezzo molto molto scontato rispetto all'istino continuiamo con seat anche questa per neopatentati si parla di una 1.400 allestimento cupra impianto gpl prezzo molto interessante ancora seat si parla di una cupra ma turbo diesel si parla di un prodotto con manutenzione appena eseguita continuiamo la carrellata con fiat bravo un 1.900 turbo diesel con gancio traino 150 cavalli allestimento sport continuiamo con 147 sono 3 5 porte abbiamo benzina abbiamo diesel abbiamo una fantastica sportiva con impianto gpl solo 1.600 cilindrata ancora con impianto gpl anche questa splendida smart 4.4 con cambio manuale e terminiamo la carrellata su questa fantastica opel astra anno 2009 unico proprietario allestimento cosmo 1.700 turbo diesel a un prezzo formidabile ricordo che abbiamo anche molto altro economico e non a vostra disposizione ricordo che qui da luce nomoto troverete anche prodotti d'epoca qualche piccolo esempio può essere un fantastico jaguar una lancia gamma un maggiorino cabrio un fantastico di un baggy costruito dall'auto mirage una bianchina panorama una 112 elite e terminerei proprio la carrellata parlando di qualche piccola sportiva di ultima generazione come questa fantastica 500 abarth pochissimi chilometri condizioni pari al nuovo gommata nuovo questa fantastica ford si parla di una fiesta st 1.6 da 192 cavalli turbo un fantastico peugeot 207 gti in allestimento limitato le man e andiamo da palma che ci sta aspettando su una fantastica mini john cooper works originale pochissimi chilometri condizioni eccellenti ricordandovi che qua da luce nomoto ci sono anche prodotti super sportivi super car veramente per tutte le tasche per tutti i gusti non resta che venirci a trovare vi saluto e vi aspetto numerosi luciano moto 30 anni di professionalità al vostro servizio specializzato nella vendita acquisto e permuta del vostro usato e a vostra disposizione non solo qui a casargrasso in via circonvalazione 49 ma anche sul sito dove potrete trovare tutte le delucidazioni e soprattutto i dettagli che in puntata non è possibile mostrarvi chiamate numerosissimi e venite di persona a denis e tutto lo staff vi aspettano io vi ringrazio per averci seguito se avete piacere scaricate la nostra app gratuita o la nostra newsletter sul sito motori.tv grazie alla prossima